Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Va bene ragazzi, oggi come vi ho promesso siamo nelle Egg Wars Oh 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 ragazzi, siamo nelle nostre prime Egg Wars Quindi ragazzi, dovete assolutamente lasciare un sacco di mi piace Raggiungiamo i 20 mi piace ragazzi per i prossimi video ragazzi Non vedo l'ora di giocare la nostra prima Beh non è proprio la prima perché ho già fatto una partita in cui ho vinto Cioè quindi la mia prima partita l'ho vinta, assurdo ragazzi Ora andiamo a giocare alle Egg Wars Facciamo una solo Dai facciamo un team in due Facciamo un team in due Intanto ragazzi il vetro è nuovo perché Select your fuse No vabbè non uso questi truccacci Questi trucchi no Questi trucchi no, non li uso Vai bisogna spaccare qui Spacca Go Go ragazzi Ragazzi sono le mie prime Egg Wars Ma io sono avanti Ma questo è già di livello 2 Che è un bug Credo sia un bug Perché questo ragazzi è di livello 2 Incredibile Vabbè siamo già meglio 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 ragazzi che sia di livello 2 Allora Ragazzi se vedete che sono abbastanza nubbino Non scrivete qui sotto nei commenti Noob Sei noob Uno scritto di Dai Ah no O è morto oppure è scritto proprio lui Eh aspetta Già quello muore Pensate Vabbè Villager Intanto ragazzi È la mia seconda Egg Wars Quindi non so molto cosa fare Prendiamoci un po' di Roba Poi Signorino Villager Cibo Magari ci compriamo Qualche carota Qualche carota ragazzi Prendiamoci questo Ma chi se ne importa Vai Poi che ci potremmo comprare Weapons Prendiamoci un'arma In Legno Ok ragazzi Guardate Un gatto con la spada Ok La mia nuova skin E questa qui del gatto Perché quella Di prima era abbastanza Passata di mano A parte che era di uno Di uno Come si chiama Quelli ragazzi Gli omini di marzapane Eccolo Quella era la mia skin Ragazzi comunque Se non vi siete ancora iscritti al canale Fatelo Perché vorrei Ragazzi Ragazzi Arrivati 120 iscritti Vorrei fare un altro speciale Bellissimo Farò i momenti Più epici Dei video Quindi ragazzi Tenetevi pronti Perché Tanto le armi Compriamoci una Stonesword Una spada In pietra Uh armatura La mattina 40 gold Per una Per un'armatura Di maglia Vabbè Prendiamoci questa Va Ora si che mi sento Protetto Ora si che mi sento Protetto Tanto ragazzi Con il nuovo aggiornamento Sembra una Spada in ferro Questa Vabbè Andiamo ragazzi Ragazzi andiamo un po' al centro Perché non vedo i diamanti Perché ci dovrebbero essere Ah intanto Precisiamo su una cosa Difendiamo L'uovo Perché intanto Dopo arriva la gente Che mi spacca l'uovo Ecco Ecco Quindi dai ragazzi Proviamo a spaccare l'uovo Sì non mi viene troppo ansia Perché ho già vinto Un Egg Wars Però nelle 4 contro 4 Quindi Il nostro compagnetto Sta qui Quindi non Non dovrei neanche Tantissimo preoccuparmi O è un noob Dei noob Oppure Ma non credo Sia noob Forza Lo eccito Guardate Forza Forza Dai compagnetto Che la vinciamo Questa Che te la vinciamo Vabbè ragazzi Skip poi vado al centro Off camera Andiamo all'attacco Andiamo all'attacco I viola I viola mollono Ora I viola Sono completamente Morti Potete far più niente Ah l'ha killato lui Perfetto Allora Prendiamoci un po' di Oro Ah ma questo è rispawnato Perché c'ha l'uovo Ma l'ammazzo io L'ammazzo io ragazzi Faccio tante kill Corri Scappano Guarda chi ha fatto Corri Chi è questo No L'altro viola Mori Mori viola Devi morire Vattene L'ho ucciso No 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 Ragazzi No 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 Mi stanno kill No Dai Che schifo Eh Ragazzi Ragazzi Me ne accorgo solo adesso Che il nostro compagno di squadra Sembra ben a tia Non me ne accorgo adesso Ma sembra Davvero ben a tia Ragazzi Sembra ben a tia Devo ammetterla Allora Visto che ho recuperato Un po' di roba Abbiamo un sacco di iron Quindi se lo perdo Addio Abbandono la partita proprio Il video si conclude In due minuti Ok No Sto gestando Cinque minuti E trenta secondi Trenta Trentotto Trentanone Oh Salti Oh ecco Grande Ma ti do Ti do Ma ti do Ma coppare il mondo Hai saltato Scusi a saltare Quei maledetti viola Che mi hanno spinto Gioco Intanto Cioè E' passi Ah no E' il mio amico Ah no E' il mio amico Quello Io pensavo Ragazzi fosse un viola Che pazzo che sono Noi possiamo andare In un'altra isola Wee 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 Vi distruggerò Ma nessuno è andato al centro Ma nessuno ragazzo è andato al centro Ma che è sta storia Scusate Solo noi siamo andati al centro Quello sta andando al centro E io la massacro Basta Basta Ho deciso Ciò pure l'uomo scoperto Andiamo Andiamo E ora ragazzi Mi spiace E' arrivato il giorno E' arrivato la notte Anche se ci muoio Non mi fa niente Butta Lo butto giù Raga Lo butto giù Lo butto giù Io Vie C'è nonnino Muore Muore Porco mi fa malissimo Raga Mi fa malissimo No Vabbè 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 Raga Comunque cittano Mi sa Sai che usano Gli hack Sai che usano gli hack Raga Si va ragazzi Si va Ora si va Niente più scuse Ora dobbiamo andare a spaccare il letto Raga Ho un piccone Fortissimo Con efficienzi 1 Stavo per cadere Non mi importa Spaccherò il vostro letto A tutti i costi Il mazzo è Buone 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 No ragazzi Comunque 2 contro 1 Non vale 2 contro 1 Non vale 2 contro 1 Si vabbè Si vabbè Si vabbè Io chiedo No 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 Non è possibile Raga Questi cittano Perché O usano le hack Non è possibile Non è possibile Proprio Raga Cioè Scusatemi Quello c'aveva La spada C'aveva la spada In Come si chiama In pietra C'aveva una spada Di ferro Quello Mi ha fatto Sapete Quanto danno Mi ha fatto Quello Voi non ci avete idea Raga Intanto Mi sono risparmiato Un po' Di iron Ragazzi Neanche se Ci abbiamo più l'uovo No Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ma Nessuno è venuto Da noi Finora Purtroppo ragazzi È difficile In cita Perché ancora Ci sono C'è Della gente Non ho più parole Perché Sono stufo Degli hacker Comunque ragazzi Non poteva far Così tanto danno Scusate Avevo pure L'armatura Cioè No Era impossibile Ma è letteralmente Impossibile Cioè Avevo troppa Roba Non poteva Uccidermi Come se niente fosse No Quelli Quelli hacker Che mi hanno ucciso In due secondi C'è Là c'è un viola Che sto andando Dai Dai rosa Dai magenta Ragazzi Direi Di Prendere anche qua Prendere dei blocchi Un Neanche un piccolo di ferro Di uno Non c'ho Abbastanza Per piccolo di ferro Dai Prendi qua Dieci di Ferro Di Gold Abbiamo Ci Compriamo Una Golden Apple E Dovrebbe Bastarci Un piccone Se non Mi ricordo Malissimo Vediamo Ragazzi Eh no Dieci Erano Cinque Eh mi sembrava Un sogno Fosse cinque O lei Fosse cinque Invece No Ecco Era dieci 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 Era comprensibile Perché Mi sembrava Di aver Qualcosa Poi Sato qualcosa Ma qua ci stanno Anche C'era anche Delle altre Roba Tipo Un arco Qualcosa Archeria Sembra Sì Sì vabbè 8 diamanti Ragazzi 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 sono Arci Stufo Che comunque Era in due Contro uno Però Mi ha colpito uno solo E mi ha fatto Troppo danno Avevo una spada In pietra La cosa La cosa più insensata È che Ma qua Siamo stati eliminati Penso Qui penso Siano stati eliminati Mi sembra Di sì Che siano stati eliminati Comunque qua Ora devo fare La stracce No lì I ragazzi Più ruboli Vedete Il premio Per la squadra Più ruboli Si è baccato Ragazzi Si è baccato Si è baccato Il tasto Si è baccato Il tasto Si è baccato Il tasto Ragazzi Era un casino Se si era baccato Profondamente Ero caduto Beh Respaunapo Ma dopo Dovevo farmi Farmi tutto Ma qua Se ne sono accorti Che ci sto io Ma non se ne sono accorti Ma questi Ma questi Non ce l'hanno L'uovo Ma sono stati Lì pure eliminati Ragazzi Non so Chi manca Manca il giallo Eh Il giallo è chi Aspetta Eh mi sa Ma il mio amico Dove è andato Scusate Benatia Dove stai O sei disconnesso Intanto ragazzi Lagga tutto Non si capisce niente Oh Salti Il mio mancraft Da dove Da dove Da dove Da dove Da dove Da dove Ma Ragazzi No Io No Bazzo Allora Mi dispiace Mi disconnetto Mi disconnetto Ragazzi Ragazzi Io mi disconnetto Non faccio più niente Cioè Io mi disconnetto Completamente Da dove Ho preso danno a caso A caso Ho preso danno a caso Ragazzi Vi giuro Ho preso danno a caso Ragazzi Non ho visto Ma non c'era nessuno Scusate Oh Scrivetevi sotto nei commenti Ragazzi Se avete visto qualcuno Ma Io non ho visto nessuno Che Stava Sparà Fa qualcosa Colpì Perché non c'era nessuno Poi Boh vabbè Beh ragazzi Purtroppo Abbiamo perso Mi sono disconnesso Ragazzi Perché Non Non volevo Cioè Me l'ho rotto E Cavoletti Vabbè ragazzi Noi possiamo dire Che ci vediamo Con un prossimo video Ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E Mettete like al video Condividetelo Commentate ragazzi Anche Perché non vedo un commento Da tanto tempo E vabbè ragazzi Noi ci vediamo Con un prossimo video Ciao Bella ragazzi Mi sono confuso Vabbè Bella ragazzi Alla prossima Ciao Chau